Perfetto, io partirei già col vivo dell'argomento, partendo con una breve descrizione. Allora, l'autodesk account, cos'è l'autodesk account? Il nostro account Autodesk è lo strumento e ciò che noi utilizziamo per la gestione dei prodotti e dei servizi Autodesk. Quindi, sia per quanto riguarda la ricerca di determinate informazioni, sia per il download e quindi l'ottenimento degli eseguibili per fare le installazioni, sia per la gestione delle licenze stesse, lo strumento che andremo a utilizzare è proprio l'account Autodesk. Come posso creare un account Autodesk? La domanda subito è, è gratuito la creazione di un account Autodesk? Allora, diciamo che l'account Autodesk è gratuito e chiunque può crearne uno. Quindi, anche una persona che decide di volere provare uno dei software Autodesk, può tranquillamente crearsi un account, un suo account privato, accedere quindi al suo account e dall'interno del suo account poter accedere a determinati servizi che ovviamente sono gratuiti. Uno fra questi è proprio la possibilità di andare a, per esempio, scaricare una versione di prova o la versione educational di determinati software, quindi accesso anche da un punto di vista gratuito. Però, andiamo subito a specificare che se il software viene acquistato, quindi noi come NKE ovviamente siamo Platinum Partner Autodesk, quindi rivenditori, se il software viene acquistato per esempio da noi, l'Autodesk quando viene fatto l'acquisto genera lui direttamente un account. La differenza fra gli account che vedremo degli utilizzatori che andranno ad utilizzare il software e l'account che crea Autodesk, qual è però? Che l'account creato da Autodesk sarà un account manager perché a questo tipo di account verranno assegnate le licenze che il cliente va ad acquistare. Quindi la risposta è come posso creare un account Autodesk, io posso tranquillamente crearne uno, ma se io faccio l'acquisto di un determinato software, se non l'ho creato io, comunque Autodesk va a crearmi un account. Ovviamente la creazione dell'account avverrà tramite una comunicazione via mail che mi porterà ovviamente ad fare il primo accesso e andare a modificare la password per accedere al mio account. Quindi questa è una prima differenza fra un account gratuito che può creare chiunque e l'account invece che viene generato da Autodesk. Come faccio ad accedere al mio account? Queste sono informazioni banali ma ci tengo a spiegarle e introdurle in partenza proprio perché sono scontate ma non sempre. Come faccio ad accedere al mio account? Accedo tramite un qualsiasi browser, quindi Chrome Explorer, quello che preferisco utilizzare e quindi vi accedo semplicemente facendo una ricerca Autodesk account, login e trovo il sito sia per accedere sia per se voglio creare un account nuovo per la creazione dell'account. Oppure un'altra alternativa posso accedere tramite l'app desktop Autodesk. Che cos'è l'app desktop? È un'app che si auto installa quando andiamo a installare il nostro primo software Autodesk nel nostro PC. Quindi il primo accesso che faremo se abbiamo il PC nuovo senza nulla installato o meglio senza nulla di Autodesk installato e vogliamo accedere al nostro account dovremo fare l'accesso per forza tramite browser. Mentre se abbiamo già installato un solo software molto probabilmente abbiamo la nostra app desktop e quindi l'accesso possiamo farlo direttamente da questa app. Allora adesso vi faccio vedere un brevissimo filmato, proprio un minuto, solo per farvi vedere la modalità di accesso. Quindi l'accesso classico tramite browser, io accedo, adesso qua non mi viene neppure richiesta la password probabilmente perché avevo già fatto l'accesso prima. Ma comunque l'accesso viene fatto semplicemente tramite l'ID, cioè l'indirizzo mail e la password. Una volta fatto l'accesso siamo all'interno del nostro account che comprende la gestione delle nostre informazioni personali e quindi le informazioni anche per quanto riguarda la sicurezza del nostro account. Quindi la gestione della password, quindi la gestione dell'accesso tramite due passaggi come si chiama, ovvero tramite l'SMS inviato al cellulare eccetera eccetera. Abbiamo poi accesso anche al resto delle nostre informazioni che riguardano i prodotti che ci sono stati assegnati. Quindi questa è la classica home page del nostro account Autodesk che dopo andremo ad analizzare un pochino più nel dettaglio. Perfetto, l'altra maniera di accedere vi dicevo è tramite l'app desktop, io ho installato diversi software quindi ho l'app desktop attiva e anche qua ovviamente io l'accesso l'ho già fatto. Se faccio un log out, dopo ovviamente dovrei rifare il login e quindi faccio il login con la mia mail e la mia password per accedere appunto al mio account. Ecco, se voglio accedere comunque alla pagina browser posso scorrere in fondo a tutti i miei prodotti a disposizione, trovo la voce e cedi all'elenco completo personale di tutti i prodotti e servizi. Quindi tramite questa opzione riesco ad accedere sempre alla home page che avevamo appunto visto prima. Perfetto Quindi, volendo fare una carrellata rapida della nostra home page, cosa troviamo nella home page del nostro account? Troviamo una serie di informazioni, chiamiamole rapide, che riguardano tre cose fondamentali. L'aggiornamento recente dei prodotti, quindi se abbiamo dei prodotti nuovi a disposizione, se il nostro account manager ci ha assegnato delle nuove licenze, se abbiamo degli aggiornamenti da fare e quindi questo lo trovo nella prima voce. Nessuna, le richieste di supporto perché vedremo poi che c'è la possibilità anche di richiedere supporto direttamente ad Autodesk per la gestione delle licenze per l'installazione eccetera eccetera, c'è anche questa possibilità qua. Se ovviamente il nostro abbonamento lo prevede. E l'acquisto dai prodotti o pacchetti aggiuntivi. Perfetto, abbiamo accesso a delle risorse, quindi è un collegamento diretto alle problematiche, quelle più richieste di solito. Quindi andiamo nella sezione quello che viene definito l'Autodesk Knowledge Network, cioè la rete dove possiamo ricavare tutta una serie di informazioni e qua lui ci nomina i problemi più classici che troviamo quando facciamo il primo accesso. Quindi informazioni di base sull'account, come si imposta un nuovo abbonamento e se non riesco a trovare un prodotto che ho acquistato. Sulla sinistra, adesso non l'ho cerchiato, ma troviamo un breve filmato di un minuto e mezzo che è una sorta di tour rapido sul nostro, per quanto riguarda l'utilizzo appunto del nostro account. E in basso a sinistra troviamo l'accesso appunto alle eventuali richieste di assistenza. Nella parte sinistra invece troviamo tutte le voci a cui possiamo accedere e che possiamo utilizzare nel nostro account Autodesk. La prima voce che troviamo è appunto prodotti e servizi, cioè l'accesso a tutti i prodotti che ci sono stati assegnati. Quindi per trovare questi prodotti e avere queste voci compilate ovviamente qualcuno deve averci assegnato le licenze, quindi l'accesso ai prodotti che abbiamo acquistato. Questo quindi può essere fatto o da Autodesk e quindi parliamo che Autodesk quando acquistiamo il software assegna all'account manager le licenze oppure all'account manager che le assegna ai diversi utenti. Quindi se io entro come utente e non come manager ovviamente mi ritroverò comunque i prodotti e servizi a mia disposizione assegnatemi dal mio manager. Quindi trovo anche gli aggiornamenti ai prodotti, dopo vediamo un breve filmato anche per questo. Installazione personalizzata, quindi se parliamo di realtà molto complesse dove le licenze sono tante possiamo gestire anche una sorta di preparazione dell'installazione che dobbiamo fare. Ultima voce, le versioni di prova attive perché comunque anche se io ho dei software acquistati potrebbe essere che mi interessa provarne qualcun altro e l'attivazione del periodo di prova lo faccio sempre tramite il mio account. Nelle versioni di prova attive posso andare a tenere monitorato quali sono i software che sto provando e quanto dura ancora il mio periodo di prova. Perfetto, cosa trovo nella sezione prodotti e servizi? Quindi abbiamo detto accesso ai prodotti in licenza, quindi al download degli eseguibili e agli eventuali codici seriali. Codici seriali effettivamente adesso non ho descritto completamente perché una volta le licenze erano gestite solo da codici seriali mentre adesso vengono gestiti direttamente tramite l'accesso degli utenti. Dopo vediamo cosa intendo. Accesso al download di tutti gli aggiornamenti dei prodotti in licenza, quindi io dopo che ho installato il software ovviamente durante l'anno vengono fuori diversi aggiornamenti, diversi pacchetti migliorativi che vanno a risolvere eventuali problemi oppure aggiungere nuove funzionalità. E quindi l'accesso a questi aggiornamenti lo facciamo appunto da questa voce. Ci sono le altre due voci, poi creazione di un'installazione personalizzata e abbiamo detto informazioni sulle versioni di prova attivate. Adesso qua vedremo, vi faccio vedere anche qua un piccolo esempio di cosa posso fare all'interno della voce prodotti e servizi, quindi accedendo a tutti i prodotti e servizi quello che vedrò, che vedrà il classico utente che si collega è tutti i prodotti che ho in licenza. Quindi o che me li abbia assegnati Autodesk o che me li ha assegnati il mio manager, io mi trovo l'elenco di prodotti che posso utilizzare. Da questo elenco cosa posso fare? Posso procedere col download e accedere eventualmente ai codici di licenza se necessari. Vedete io per esempio ho una licenza di PowerShepp, adesso le mie sono licenze particolari perché sono licenze da rivenditori, quindi sono gestite ancora in maniera vecchia diciamo. E attivando la voce di PowerShepp, scusate non di PowerMeal, posso accedere al download degli eseguibili, quindi andrò a selezionare la versione che voglio scaricare, l'eventuale lingua e ho tre diverse possibilità di download. Quindi posso fare l'installazione diretta, lui fa il download e lancia l'installazione subito oppure posso fare il download diretto tramite il browser e quindi andare a scaricare i miei eseguibili e questi eseguibili dopo posso anche spostarli da un pc all'altro se devo installare lo stesso software su più pc. Da qua trovo anche la voce per l'attivazione, quindi eventuali codici di accesso e l'eventuale accesso a dei moduli aggiuntivi. Perfetto, unica cosa che vi faccio vedere ancora è che alcuni software hanno al suo interno una serie di software, per esempio questo è il classico esempio della Manufacturing Collection. In questo caso trovo la voce visualizza tutti i software compresi e quindi cliccando su questa voce mi ritrovo un ulteriore elenco a cui accedere e da cui posso procedere dopo col download dell'eseguibile. Nel caso di Fusion per esempio viene fatto direttamente, non ho l'interfaccia come prima per PowerShell e una volta scaricato posso procedere all'installazione del software. Perfetto. Per quanto riguarda gli aggiornamenti invece come dicevamo man mano che escono gli aggiornamenti li troverò qua in elenco, qua trovo l'elenco però di tutti gli aggiornamenti dei software che mi sono stati assegnati, per esempio io ne ho diversi e quindi questo elenco è molto molto lungo. Anche perché trovo gli aggiornamenti non solo delle versioni ultime, quindi nel nostro caso della 2022, ma anche delle versioni precedenti, vedete per esempio del 2021 e se scorro indietro arrivo fino alla 2020 e 2019. Ho però la possibilità di andare a filtrare la mia ricerca, quindi se io avessi bisogno di aggiornare PowerMill e la versione che ho installato è l'ultima, la 2022, ovviamente già semplicemente con questi due filtri, se vado a vedere, ho già ottenuto l'elenco di tutti gli aggiornamenti che posso scaricare e installare. Dopodiché posso procedere anche qua al download, oppure tramite la selezione fare un download multiplo diciamo. Perfetto, le voci di installazione personalizzata ovviamente mi danno la possibilità di creare un'installazione ad hoc, come vi dicevo è per una situazione più complessa dove i software magari da installare sono tanti e riguarda non tanto la parte make, cioè non quello che riguarda i software ex Delcam, quindi riguarda soprattutto la gestione diciamo dei software come Inventor, AutoCAD eccetera. Le versioni di prova attive ovviamente mi fa vedere quali sono le versioni di prova, io adesso non ne ho alcuna, quindi ho la pagina vuota diciamo. Comunque se avessi qualche software in prova vedrei ovviamente l'elenco dei software che sto provando. Perfetto, quindi tornando invece alla nostra home page del nostro account Autodesk, l'altra cosa molto importante da capire come utilizzare è la gestione degli utenti. Cosa significa la gestione degli utenti? Nel caso che io come azienda acquisto più di una licenza, queste licenze ovviamente non posso gestirle con un unico utente, perché? Perché non avrebbe senso un utente se utilizza un software ne utilizza uno, non ne utilizza due o tre contemporaneamente. Quindi se l'azienda acquista tre, quattro, dieci licenze e deve assegnarle a, quindi deve fare l'installazione su dieci pc e assegnare queste licenze a questi dieci pc, questa cosa viene fatta tramite la gestione degli utenti. Perché come dicevo prima, la gestione delle licenze ora non è più fatta tramite numeri seriali, quindi non viene più legata la licenza al pc, ma la licenza rimane legata all'utente. Quindi per descriverlo a voce, dopo andiamo a vederlo sul pratico come viene gestito, quello che dovremmo fare noi è andare a creare un gruppo di utenti e ad ogni utente andare a assegnare le licenze che gli servono per lavorare. Una volta che assegnerò una licenza ad un utente, quando l'utente entrerà col suo account, non con l'account manager che gliel'ha assegnata, ma col suo account, quando accederà ovviamente si troverà il suo software assegnato, quindi può procedere a fare quello che abbiamo visto prima, al download del software, l'installazione e a fare quello che vedremo dopo invece che è l'attivazione del software tramite l'accesso con le sue credenziali. Quindi nel caso che noi ci trovassimo nella situazione che Autodesk ha assegnato le licenze, ecco una cosa importante da capire e da tenere presente è che quando io acquisto 10 licenze, Autodesk queste 10 licenze le assegna ad un indirizzo mail che sarà il manager che dovrà gestirle. Questo account manager ovviamente se fa parte degli utilizzatori potrà utilizzare solo una di queste licenze, quindi la cosa importante da non fare, da capire che non bisogna fare, è che se io acquisto due licenze, quando devo cominciare ad utilizzarle dovrò creare un gruppo di due utenti e assegnare una licenza per utente per poter lavorare in maniera corretta. Non posso usare le licenze, non posso usare lo stesso account su due postazioni anche se potenzialmente questo utente ha nel suo account 3, 4, 10 licenze perché è l'account manager. Allora andiamo a vedere, quindi la gestione, le voci che troviamo nella nostra schermata sono la gestione per utente, dopo vediamo cosa si intende, per prodotto, quindi posso andare a vedere quanti prodotti ho, quindi quante licenze ho acquistato e a chi sono eventualmente state assegnate, oppure la gestione per gruppo, quindi questo nel caso che le licenze sono tante posso andare a gestirle in maniera a gestione per utente, quindi la gestione per utente, quindi la gestione dei gruppi, dei team, che vado a creare, organizzare gli utenti anche tramite dei gruppi di lavoro, quindi quello che vi stavo dicendo proprio in questo momento, assegnare i prodotti agli utenti perché l'utente per poter utilizzare un prodotto gli deve essere assegnata appunto la licenza, cambiare i ruoli anche dei singoli utenti perché effettivamente quando io cliente acquisto 10 licenze, Autodesk abbiamo detto assegna queste licenze ad un manager, il manager può comunque all'interno del gruppo che andrà a creare potrà eleggere una seconda persona come un manager secondario, chiamiamolo così e quindi che avrà gli stessi poteri del manager, dell'account manager e potrà anche lui andare a segnare a togliere le licenze agli utenti, mentre quelli che saranno definiti utenti possono solo ricevere e utilizzare le licenze. Scusate. Bene, anche qua vi faccio vedere un brevissimo filmato, facciamo un piccolo esempio. Ok, attimo che lo facciamo ripartire. Quindi, nella gestione utenti, se entriamo nella pagina per utente, troverò tutti gli utenti che fanno parte del mio team. Io in questo caso sono l'amministratore principale, quindi tutte le licenze sono state assegnate a me. Io se vado qua all'interno, ovviamente qua vedo che non ci sono prodotti assegnabili, perché ripeto, io ho un account da rivenditore, quindi le licenze vengono gestite in maniera differente. Nel caso dell'account dei clienti, dove trovo accesso ai prodotti di Daniele, troverò l'elenco dei prodotti che mi sono stati assegnati e che posso utilizzare. Ovviamente vedrò anche le licenze che sono là parcheggiate, ma non sono state ancora assegnate e non sono ancora utilizzabili. Cioè, no, sono utilizzabili ma non sono state assegnate. Perfetto. Quindi, prima cosa da fare è andare a creare questo gruppo di utenti, perché abbiamo detto che Autodesk assegna tutte le licenze all'unico indirizzo mail che gli è stato dato. Per creare un utente basta semplicemente fare invita utenti, se vogliamo invitare un utente singolo basta assegnare nome e cognome e l'indirizzo mail. Con questa operazione cosa succede? La persona, l'indirizzo mail che abbiamo inserito come utente, riceverà una mail e se non possiede già un account Autodesk verrà invitato a creare un account. Una volta creato l'account, ovviamente sarà un utente che fa parte del team e quindi possiamo andare ad assegnargli delle licenze. Vedete l'utente. Ecco, qua abbiamo anche il tastino modifica ruolo, dove vi dicevo prima posso cambiare il ruolo da utente amministratore secondario. se questa persona che ho invitato per prima fosse quello che io voglio eleggere come, diciamo, mio vice nella gestione delle licenze. Perfetto. Man mano che procedo in questa direzione, ovviamente vado a creare tutta la mia squadra, tutti i miei utenti. Questa squadra viene raccolta nell'unico team che è stato creato in automatico, che è quello che vedo qua in cima. Quindi se io voglio andare a creare più di un team, posso accedere alle impostazioni della gestione per utente e da qua posso andare a creare un nuovo team. Quindi posso creare un nuovo team, lo chiamerò ad esempio ufficio tecnico. Vado a creare il team. E quindi posso andare a invitare questi utenti e spostare degli abbonamenti. Quindi il team sarà praticamente un'area, diciamo, un'area di lavoro in cui io inserirò degli utenti, assegnerò delle licenze e ovviamente queste licenze verranno distribuite a diversi utenti. Perfetto. Vedete che da qua adesso ho il doppio team e in cui posso fare lo switch. Ovviamente nel team ufficio tecnico ci sono solo io, nel primo team iniziale invece c'era anche l'utente che avevo aggiunto. Ecco, tenete conto che gli utenti posso anche inserirli in maniera più complessa. Se avessi 30, 40, 50 licenze, posso fare la creazione degli utenti in maniera rapida tramite un file CSV e quindi esportarlo da un account manager o un altro oppure crearlo come un file, per esempio un file Excel. perfetto. Chiedo scusa, un secondo, prendo un bicchiere d'acqua perché mi sto soffocando. eccomi qua, scusate. Perfetto, stavamo dicendo quindi ok, riprendiamo ecco, la gestione delle licenze adesso io non avevo la possibilità di vedere l'elenco di licenze assegnabili perché non non avevo delle licenze da poter assegnare se avessi delle licenze da assegnare le vediamo come qua nell'elenco quindi tramite un flag o tramite un tastino assegna e rimuovi assegnazione io posso assegnare ad ogni utente una licenza oppure rimuoverla scusate ancora ecco un problema tecnico ok se l'utente che ho che ho creato in precedenza voglio rimuoverlo ovviamente ho la possibilità di rimuovere l'utente quindi se la persona che prima faceva parte del team cambia cambia ruolo eccetera posso rimuoverlo tranquillamente e ovviamente tutte le licenze che gli erano state assegnate ovviamente si riversano nell'account manager e sono nuovamente assegnabili perfetto ecco una volta che io ho assegnato la licenza all'utente e l'utente installa il software al primo avvio del software ovviamente dovrò andare a inserire la mia la mia licenza adesso l'utilizzo della licenza viene fatta tramite il login dell'utente quindi quando io avvio il software faccio il login oppure addirittura se ho installato l'app desktop e ho già fatto il login tramite l'app desktop addirittura quando lancio il software lui si avvia direttamente quindi la licenza non me la chiede neanche spesso troviamo ancora presenti comunque la possibilità di utilizzare le licenze tramite serial number per esempio nel caso dei clienti che non sono più in abbonamento ma che utilizzano le versioni dei software di proprietà quali PowerMill e FeatureCam hanno come si dice non hanno optato per i vantaggi dell'abbonamento e hanno interrotto appunto la manutenzione la licenza viene gestita ancora come numero seriale quindi in quel caso quando avvio il software avrò bisogno del numero seriale per accedere oppure se ho l'utilizzo ancora di licenze di rete anche se queste non sono più utilizzate perfetto quindi abbiamo detto che l'accesso lo faccio tramite tramite login ovvero all'utente a cui sono state assegnate le licenze lui può accedere tramite le sue credenziali quindi IT e password in quanto in pc posso utilizzare una licenza utente singolo quindi quando ad un utente viene assegnata una licenza può usarla solo su un pc la risposta è no perché perché io potenzialmente il software posso installarlo su n postazioni quindi l'esempio classico è io ho il pc che utilizzo in ufficio e dove trascorro la maggior parte del tempo ma ho un pc anche a bordo macchina in ufficina che mi serve per fare delle verifiche e le ultime modifiche prima di andare in macchina e in più mi capita spesso siccome sono come si dice uno staccano vista la sera quando torno a casa ho bisogno di fare delle verifiche anche là e voglio continuare a lavorare in questo caso posso tranquillamente installare il software su tre pc l'unica cosa a cui dovrò fare attenzione è che la licenza può essere utilizzata solo su due postazioni scusate solo su di una postazione alla volta cosa vuol dire utilizzare una postazione alla volta vuol dire che o io spengo il pc in cui stavo utilizzando il software oppure dovrei fare il logout allora facendo il logout ovviamente risulta che in quel pc la licenza non la sto usando posso andare ad utilizzarla tranquillamente in un altro in un altro pc quindi questo ci deve far capire che bisogna evitare assolutamente di eseguire l'accesso con lo stesso utente in due postazioni contemporaneamente infatti quello che ci è capitato qualche volta è che a causa di una scarsa conoscenza appunto della gestione delle licenze sono casi abbastanza rari però è successo che la persona cioè il responsabile gli erano state assegnate il manager gli erano state assegnate più di una licenza quindi 5-10 licenze e per accedere a queste licenze forniva il suo account a più utenti quindi alla fine ci si ritrovava che di 5 licenze acquistate se ne utilizzava una su più postazioni perché l'accesso veniva fatto sempre col suo account questa è una cosa che non bisogna assolutamente fare quindi quando io ho 5 licenze devo avere 5 utenti nel mio gruppo assegnare la licenza dopodiché ogni utente avrà la sua licenza e quindi non incapperà in nessun problema per quanto riguarda l'accesso al software e la gestione delle licenze quindi quello assolutamente da evitare è evitare di fare l'accesso con lo stesso account a cui è stata assegnata la licenza fare l'accesso su più postazioni contemporaneamente se ho bisogno di accedere contemporaneamente come dicevamo prima ho il pc in ufficio che uso e che programmo di solito però anche a bordo macchina l'operatore ha bisogno magari di fare qualche verifica qualcosa in questo caso dovrei preoccuparmi o di assegnare la licenza a lui momentaneamente oppure per alcuni software quale power mille feature cam posso considerare l'utilizzo della versione viewer del prodotto cosa vuol dire io posso installare tranquillamente il mio software non fare l'accesso come utente ma semplicemente quando sarà ora di lanciare software lo lancerò come in versione viewer quindi la versione viewer è la versione che ci permette di fare tutte le verifiche del caso tutte le analisi le simulazioni però non ci permette di salvare e scrivere il programma nc quindi se quello che serve a noi è fare delle semplici verifiche possiamo lavorare in questa maniera ultima cosa che andiamo a vedere anche se qua purtroppo non riesco a farvela vedere in pratica ma cerco di descriverla in maniera dettagliata abbiamo la possibilità da parte dell'account manager di andare a creare dei report di utilizzo delle postazioni questi report mi permettono di monitorare il numero degli utenti e dei prodotti e delle postazioni che vado come vengono utilizzate quindi per un singolo prodotto è possibile monitorare il numero degli utenti assegnati e le postazioni disponibili anche c'è la possibilità di vedere la frequenza di utilizzo in base alla versione che viene utilizzata quindi il report di utilizzo delle postazioni consentono agli amministratori di monitorare quali utenti hanno attivato i prodotti loro assegnati e anche la frequenza di quanto questi prodotti vengono utilizzati ciò consente ovviamente agli amministratori di ottimizzare l'assegnazione delle postazioni e pianificare eventuali acquisti e incrementi di licenze diciamo ok l'utilizzo in base all'utente invece ci permette di tenere traccia della frequenza con cui i prodotti vengono utilizzati dai singoli utenti quindi per l'utilizzo del singolo prodotto diciamo per il riepilogo dell'utilizzo delle postazioni per tutti i prodotti il processo da eseguire è quello di accedere appunto all'account e andare nella sezione nella sezione rapporti e selezionare l'utilizzo delle postazioni selezionando l'utilizzo delle postazioni viene generato un report e nel report relativo a riepilogo dell'utilizzo delle postazioni quindi si seleziona un intervallo temporale che può essere un mese gli ultimi tre mesi sei mesi nove mesi fino a dodici mesi e quindi dopo viene 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 generato questo report che si può stampare generare appunto analizzare è possibile inoltre scaricare un foglio di calcolo in cui sono elencati l'utilizzo delle postazioni da parte di tutti gli utenti e i tuoi e i suoi abbonamenti non i tuoi le informazioni relative all'utilizzo agli utenti e agli abbonamenti sono disponibili in schede separate quindi ogni ogni utente diciamo avrà il report di come ha utilizzato la licenza eccetera eccetera questo sistema di creazione del report ci permette di tenere traccia della frequenza con cui i prodotti vengono utilizzati quindi dai singoli utenti e anche in questo caso ci permette di capire in maniera diretta se andiamo a incappare nell'overusing come viene definito quindi se utilizzo la stessa licenza su più postazioni dal report questa cosa riesco a riesco a vederla evidenziarla perfetto ok questa era l'ultima cosa che riguardava il nostro account adesso diciamo per riassumere i vantaggi di un corretto utilizzo dell'account manager quali sono sono la comodità nell'accedere all'installazione di software e a tutti gli aggiornamenti ovviamente quindi se io conosco bene lo strumento riesco facilmente ad accedere sia agli eseguibili che ai vari aggiornamenti per mantenere il mio software aggiornato la gestione semplice consapevole delle licenze acquistate quindi io con estrema facilità riesco a spostare la licenza da un utente all'altro e posso gestire quindi il gruppo di utenti senza grossi problemi questo quindi sia nelle situazioni più grandi utilizzando anche lo strumento dei teams come abbiamo visto possiamo creare anche dei teams per ottimizzare la gestione ma anche nelle realtà più piccole per la facilità di trasferimento della licenza da una postazione all'altra quindi basta l'accortezza di fare il logout da una macchina e la licenza dopo posso fare il login presso un altro pc senza grossi problemi oppure se ho due come si dice un gruppo di tre utenti e solo due licenze l'account manager semplicemente logandosi accedendo al suo account può spostare con due click la licenza da un utente all'altro senza grossi problemi in conclusione ci dà la possibilità da parte del manager di monitorare l'utilizzo delle licenze e valutare l'eventuale acquisto di nuove risorse quindi di andare a implementare appunto il parco software